Peppa Pig, la piscina. Peppa è andata in piscina con la sua famiglia. Tutti hanno messo il costume da bagno. Prima di entrare in acqua dovete mettervi braccioli, dice mamma Pig a Peppa e a George. Mamma Pig, Peppa e papà Pig entrano in acqua, ma George resta sul bordo. È la prima volta che viene in piscina e ha un po' paura. Non aver paura George, prova a mettere dentro un piedino alla volta, lo tranquillizza papà Pig. George è stato coraggioso e ha scoperto che entrare in acqua non fa affatto paura, anzi sbattere i piedini e fare spruzzi tutti intorno è molto divertente. Alla piscina arrivano Rebecca Coniglio e il suo fratellino Richard accompagnati dalla mamma. Anche loro hanno messo i braccioli. Oggi è una giornata molto calda e a tutti piace andare in piscina quando fa caldo. George e Richard usano le tavolette galleggianti. Loro sono ancora piccoli e devono imparare a sbattere le gambe. A George e Richard piace esercitarsi in piscina e fare tanti schizzi. A papà e mamma Pig e a mamma Coniglio invece gli schizzi non piacciono molto. I bambini grandi non schizzano, dice Peppa. Io e Rebecca siamo bravissimi a nuotare. A Peppa piace vantarsi qualche volta. Quando George e Richard avranno la nostra età nuoteranno bene proprio come noi, dice Peppa. Hai ragione, esclama Rebecca. Peppa e Rebecca sono felici di essere delle bambine grandi. George e Richard non si esercitano più con le tavolette. Ora si sono messi a giocare con un annaffiatoio. Ma a un certo punto... Splash! Oh no! L'annaffiatoio è caduto in acqua ed è finito proprio sul fondo della piscina. Per fortuna Papa Pig nuota così bene che sa andare anche sott'acqua. Prende una bella buccata d'aria e poi... Glu, glu, glu! Evviva Papa Pig! Ha preso l'annaffiatoio! George e Richard sono contentissimi. Papà sei stato bravissimo. Io non so nuotare sott'acqua, dice Peppa, che è molto orgogliosa del suo papino. Ma quando avrò la tua età nuoterò bene proprio come te. Ora George e Richard ricominciano a giocare e si mettono ad annaffiare Papa Pig. Allora è proprio vero che i bambini piccoli piacciono tanto gli schizzi e gli spruzzi. Fine.